Musica Abbiamo voluto realizzare quella che per noi è una sorta di ricognizione sulla fotografia italiana contemporanea attraverso una ricerca ampia e lunga e anche combattuta insieme al gruppo di Phantom abbiamo visto che c'è un'estrema varietà e un'estrema vitalità l'abbiamo voluto restituire anche attraverso un'immagine che poi è quella dell'invito che è di fatto un arcobaleno preso da un programma di Photoshop che mette in mostra questa gradualità cromatica che corrisponde anche a un essere della fotografia oggi È un momento molto particolare per la fotografia italiana non accade da diversi decenni che la fotografia italiana sia il centro dell'attenzione internazionale adesso i riflettori sono puntati sui nostri autori anche dal punto di vista editoriale è un momento molto positivo, è un momento di confronto è un momento di apertura ci siamo concentrati su una serie di autori su una serie di artisti che erano particolarmente vicini a noi artisti con cui abbiamo già lavorato in passato non c'è dubbio che il sistema della fotografia in questo paese sia molto più allargato e che quindi nelle prossime puntate, nel corso del tempo sarà possibile introdurre nuovi autori nuove visioni, nuove sperimentazioni quando abbiamo iniziato a lavorare a questa mostra ci siamo accorti che non avremmo potuto non inserire una parte dedicata all'editoria questo perché oggi moltissimi progetti nascono come libro prima ancora che diventare una mostra e per questo motivo abbiamo pensato che fosse bello e importante dedicare loro uno spazio abbiamo organizzato una serie di incontri più o meno settimanali in cui invitiamo gli artisti e anche gli editori a presentare qui i loro progetti questo perché i libri sono fatti per essere sì guardati ma anche toccati, sfogliati e quindi conosciuti grazie a tutti grazie a tutti